Ciao a tutti, è stata un'occasione importante nel senso che Spagnoli ha vinto di testa una palla lunga, ero lì vicino a lui, sapevo che poteva vincere quella palla lì e alla fine l'ho passato a lui per fare gol, per fare un assist a lui e dopo lui me l'ha passato a me che non lo aspettavo neanche, ho fatto i gol che calciare di prima pensavo potesse sbagliare e quindi ho provato a saltare i portieri e è andata bene. Il più bello secondo me è stato quello di Cesena, però questo è più importante e che dà una carica in più al gruppo e al Modena, questo è più importante. Dobbiamo pensare sempre positivo, i punti che abbiamo perso abbiamo perso, quindi non possiamo mai pensare a guardare dietro, dobbiamo pensare in avanti da adesso in poi, il nostro campionato è per forza iniziato adesso di nuovo un altro campionato, dobbiamo pensare a vincere più partita possibile per arrivare a provare qualcosa più avanti. Sicuramente non sarà una partita facile come tutte partite, non sono partite facili, ripeto dobbiamo pensare solamente a noi adesso e provare a fare più punti possibili, non possiamo più lasciare i punti spersi. Ciao a tutti, un abbraccio.